E' una visita con un deciso orientamento economico e commerciale, la seconda in Puglia dell'ambasciatore di Israele in Italia, Naor Ghilon. Lo spiega lui stesso dopo aver incontrato il presidente della regione Vendola, che tra poche settimane farà un viaggio in Israele e Palestina. Abbiamo parlato di possibilità in settori diversi, tecnologia spaziale, innovazione in generale, turismo, biotecnologia. L'import-export è già rilevante, perché in Medio Oriente Israele è il secondo partner della Puglia. Prima della visita in regione, dove ha incontrato anche l'amministratore unico di aeroporti di Puglia, Cerno, con cui ha parlato delle prospettive per lo scalo di Grottaglie, l'ambasciatore, accompagnato dal ministro consigliere per gli affari economici, Tamar Ziv, aveva incontrato in fiera il presidente Ugo Patroni Griffi, che ha invitato alla sesta conferenza sull'energia sostenibile, che si terrà in Israele a dicembre. Innanzitutto io vorrei una bella presenza di imprese israeliane durante la 78esima campionaria. È una presenza che manca da diversi anni e sarebbe un bel ritorno, anche un simbolo. Un pranzo veloce ad Italy, insieme al segretario del Corpo Consolare, dove all'ambasciatore, che non mangia maiale, frutti di mare, carne e latte insieme, e non ama i carboidrati, sono state servite verdure in tempura con sgagliozze e una ricciola. L'ultima tappa della visita Confindustria, dove a fare gli onori di casa, è stato il vicepresidente dei giovani imprenditori del Lance, Luigi De Santis, che ha sottolineato come la visita sia un segno tangibile della grande attenzione di Israele verso la nostra regione.